Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogrofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 205, Il compagno di scuola. La copertina di Angelo Stan ed è davvero terrificante questo sguardo riuscito alla perfezione di questo, per l'appunto, compagno di scuola. Con la mia bellissima rimocia adesso andrò a dirvi una parola fantastica. Raramente si vedono degli sguardi del genere nelle copertine di Angelo Stan, devo dire che l'impatto è veramente deciso. Insomma, a me questo sguardo fa paura. Qui invece abbiamo un profilo di Dilan senza infamia e senza lode, qua una porta rossa dell'ingresso del suo ufficio di Craven Road, un po' sul rosino, dovrebbe essere invece di un rosso più acceso, di un rosso fuoco. Vabbè, pazienza. Qui lo sfondo invece è fin troppo scuro, secondo me. Se la scena fosse ambientata di giorno, ci sarebbe comunque della luce naturale. E invece se fosse ambientata di notte, sicuramente non mancherebbe l'illuminazione artificiale data dei pali della luce in Craven Road. Quindi c'è qualcosa che non va. Forse Angelo Stan voleva porre in enfasi questo volto, però un po' di luce qui nello sfondo, secondo me, ci voleva. La testa della sceneggiatura sono di Chiaverotti e disegni di Rinaldi. Vi dirò subito che forse questa, anzi, è sicuramente una delle migliori avventure scritte da Chiaverotti per il personaggio di Dilan Dog. Andiamo a scoprire il perché. Andiamo a vedere di che cosa parla questa avventura e inizierò dicendovi che la presentazione di quest'alba è veramente precisa, esaustiva e veramente ben stesa. Abbiamo questo soggetto molto particolare che è di qua, sì, è sempre lui, vedete, questo ragazzo è il compagno di scuola che andrà a perseguitare un suo amico dai tempi del college perché non gli ha ridato indietro un libro di appunti. E questa storia andrà avanti per anni e anni interi, continuerà a perseguitarlo perché vorrà indietro questo libro degli appunti, farà di tutto, lo minaccerà, lo picchierà, lo torturerà psicologicamente anche a distanza di 30 anni, come vedremo in questa avventura. Un albo che fa dell'ansia il fulcro di tutto, veramente una storia al cardiopalma, ci saranno degli intricati movimenti, giochi di psicologia che mi sono piaciuti veramente tanto. L'incubo qui non è descritto come un mostro che va in giro ad ammazzare la gente, anche ci sarà qualcosa di ciò, ma verrà più che altro visto proprio come l'incubo classico del mondo di Dilan Dog. Quindi un incubo che può esserci, può non esserci, qualcosa un po' di impalpabile che andrà poi ad aleggiare per tutto il resto della vicenda. I disegni di Rinaldi riescono ad accompagnare veramente bene tutte queste tavole ricche di suspense. Ci saranno dei dettagli nelle varie vignette veramente ottimi, quindi anche noi riusciremo ad indagare in maniera tendenzialmente attiva in questa avventura, grazie proprio ai bei disegni offerti da Rinaldi. Ci sono magari dei dettagli qua e là che sono stati appunto disegnati bene per questo, si riesce a cogliere proprio il, diciamo il, questi dettagli si riescono a cogliere veramente bene e si riesce un po' a mettere insieme i pezzi del puzzle. Direi che è un'avventura che mi ha preso molto, vi consiglio assolutamente di leggere, mi avete consigliato di leggerla, per fortuna ce l'avevo nel mio archivio e non avevo ancora avuto tempo di visionarla, ma adesso che l'ho avuta in mano e l'ho approfondita vi dirò che mi è piaciuta, grazie del consiglio. Continuate a consigliarmi le storie su Instagram, qui su YouTube, dove volete. Il voto finale che vado ad assegnare a quest'avventura è un 8 pieno. Per il momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o ti è piaciuta, condividila dove vuoi, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo, importantissimo per maniere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog, e noi ci vediamo in una prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo.